Ciao a tutti dall'Azionatore, eccoci qui per il premio Liberi e Forti, ovviamente lui rappresenta il Forte. Allora io ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fanni che ti seguono, Pietro. Io li saluto affettuosamente, grazie, seguitemi anche facendovi riconoscere perché io mi giro e non trovo mai nessuno. Non è vero, è uno, è uno, è uno. Ecco, spingono pure, piano piano. Con calma, adesso piano piano. Allora un super saluto a tutti i tuoi fanni. Un super saluto a tutti i miei fanni, vi voglio bene. Ecco qua, è appena ricevuto la partecipazione a questo bellissimo evento, solitale, che veramente hanno le persone che danno questa forza ad altre persone. veramente, un grande messaggio. È un grandissimo messaggio, non dobbiamo dimenticare di aiutare chi ne ha bisogno. Ecco, grazie Pietro e la manina del saluto. Che bello. Ciao, ciao.